Musica Prima sconfitta stagionale per la matricola guardia grele che esce comunque a testa alta e con qualche recriminazione dal difficile campo di grottaglie. I padroni di casa in maglia gialla vanno al tiro dopo 18 minuti con la debole conclusione di Pellegrino che non crea pericoli all'epore. Al ventitresimo l'estremo difensore guardiese si disimpegna piuttosto agevolmente per neutralizzare un colpo di testa ravvicinato di un attaccante avversario. L'undici di Anzivino si fa più audace e al ventiseiesimo crea la prima pallagol della contesa e Arancio che con un colpo di testa ravvicinato costringe Leone a dirottare la sfera in corner. Sulla sponda opposta il tiro dal limite di Radicchio sfiora il bersaglio. Ancora Grottaglie al trentacinquesimo la tagliata dopo una lunga fuga dalle retrovie prova a sorprendere l'epore dalla distanza ma il portiere guardiese è reattivo e manda la sfera in angolo. Il primo parziale si chiude con un pericolo scampato per l'undici di Anzivino. Al quarantaseiesimo infatti il diagonale ravvicinato di Ancora attraversa tutto lo specchio della porta granata senza trovare nessun attaccante pugliese pronto per il tap-in vincente. Si va dunque al riposo con i due portieri ancora imbattuti. In avvio di riprese il Grottaglie sfiora il gol con Piroscia che stacca di testa ma non riesce a sfruttare la pennellata di la tagliata. Si disperano i pugliesi per raggiotta opportunità fallita ancora da Piroscia che da due passi schiaccia di testa ma manda a lato. Il gol è nell'aria e non tarda ad arrivare. E lo stesso Piroscia che si fa perdonare quando al venticinquesimo lascia partire un gran siluro dalla distanza che l'epore non riesce ad intercettare. Sull'onda dell'entusiasmo i padroni di casa cercano il bis ma il destro dalla distanza di la tagliata è poco incisivo. Il guardia grele complessivamente poco attivo in fase offensiva nell'arco dei 90 minuti ha in ogni caso tutte le ragioni per recriminare sul gol che nei minuti di recupero viene annullato a Bosco. Il numero 17 Granata arpiona un lungo lancio di Pucci dalle retrovie, brucia sul tempo due difensori avversari e infila il pallone alle spalle di Leone. Ma il direttore di gara su segnalazione del suo assistente non convalida la segnatura apparsa regolare almeno a giudicare da queste immagini. Si chiude dunque tra le polemiche il secondo match in trasferta del guardia grele che ha comunque tutte le carte in regola per raggiungere la gognata salvezza.